Scambiamo due parole su concetti nel mondo audio, concetti che abbiamo magari incrociato nel nostro parlare o di alta fedeltà o di audio professionale, ma che non conosciamo profondamente, parole come controreazione o transienti o inglesismi come dumping factor, fattore di sforzamento, o slew rate o larsen feedback. Sono concetti che sembrano essere minori rispetto ai grandi temi di cui abbiamo parlato nei nostri video, tipo l'impedenza, la risposta in frequenza, la potenza in watt, la fase è così importante, però per chi ha voglia di scambiare quattro chiacchiere parliamo appunto partendo dal fattore di smorzamento, il dumping factor. Questo fattore di smorzamento è un numero che indica la capacità di un amplificatore o lo medio di un sistema amplificatore casse di smorzare, di frenare il movimento in consulto dell'altoparlante, tipicamente del woofer. Sappiamo che un woofer sottoposto alla corrente che ne eccita il movimento, dopo aver eseguito il suo sfoggio di escursione non si ferma immediatamente, ma anche solo per inerzia dei materiali stessi e anche per il carico d'aria che ha alle spalle, tenderebbe a continuare un pochino a oscillare, come farebbe un sasso che buttato nell'acqua non fa solo un cerchio ma continua a farne più di uno, anche se l'entrata del sasso sarebbe una sola. Il fattore di smorzamento di un amplificatore tenderebbe quindi a smorzare questi movimenti che ho chiamato in consulti, in realtà che non appartengono al segnale che il woofer dovrebbe riprodurre nell'aria. E questo numero, il dumping factor, sembra essere una caratteristica che determina la bontà o meno di un amplificatore, in effetti parzialmente così. Ma non si tratta di una vera caratteristica, vera e propria dell'amplificatore che è in grado di frenare il woofer come se fosse un fantino che doma il cavallo. In realtà non è altro che il rapporto tra l'impedenza di uscita dell'amplificatore e l'impedenza del carico. Quando un altoparlante si muove sappiamo che l'altoparlante è composto da una bobina all'interno di un traferro, o si muove perché la bobina è percorsa dalla corrente causando il movimento, o se si muove per conto suo farà lavoro opposto, cioè genererà una corrente che, guarda caso, tenderà a ritornare verso l'amplificatore. Un po' come fa il microfono in fondo, che non è altro che un altoparlante che lavora al contrario. Beh, questa corrente che ritorna verso l'amplificatore è dannosa, all'amplificatore non fa certo piacere ricevere della corrente di ritorno dal woofer che si sta muovendo per conto suo. Ecco che se l'impedenza di uscita dell'amplificatore è sufficientemente bassa da impedire questo ritorno della corrente, si ha un buon fattore di smorzamento. Quindi un amplificatore con una bassa impendenza di uscita ha un buon fattore di smorzamento e frenerà molto bene il woofer, evitando quei bassi, lunghi, sgommosi, slabbrati che spesso si sentono in alcuni impianti. Ecco quindi che tutti andiamo a guardare il fattore di smorzamento del nostro amplificatore o dell'amplificatore che vogliamo comprare per cercare il valore più alto possibile identificandolo inequivocabilmente con un'alta qualità. Attenzione, non è detto assolutamente. Ovviamente un buon fattore di smorzamento è importante, ma spesso per ottenere un altro fattore di smorzamento, i costruttori ricorrono alla controrreazione. Ecco la seconda parola misteriosa del quale vorrei accennare, perché in realtà stiamo solo accennando questi concetti. La controrreazione è una tecnica, una metodologia che usano i costruttori di amplificatore, in realtà di qualsiasi transistor, che preleva il segnale di uscita da questo transistor che sta amplificando qualche cosa, lo rimanda, ecco perché si chiama a controrreazione, l'ingresso del transistor che ha appena amplificato questo suono, in modo che la comparazione tra segnale originale e segnale amplificato dia origine a una differenza, cioè la distorsione che c'è tra il segnale prima di essere amplificato e dopo l'amplificazione, differenza che può essere a questo punto corretta, annullata con vari stratagemmi. Questa è la controrreazione adottata da più o meno tutti gli amplificatori. C'è chi ne usa di più, c'è chi ne usa di meno. L'utilizzo di questo artificio, la controrreazione, ha come esiti la modifica dell'impedenza di uscita dell'amplificatore, ecco perché ha a che fare con il dumping factor, cioè l'argomento che abbiamo trattato prima. E la controrreazione, così come il dumping factor, è uno di quegli argomenti che polarizza gli appassionati dell'alta fedeltà. C'è chi pensa che la controrreazione sia un ottimo e indispensabile stratagema per diminuire la distorsione, c'è chi la borre assolutamente e anzi cerca amplificatori che dichiarano di essere no feedback, senza controrreazione, tipicamente molti amplificatori a valvole. Ovviamente io non ho la verità in tasca, ma come al solito, come in quasi tutte le cose, la verità è più o meno nel mezzo. Io credo che un po' di controrreazione sia indispensabile in qualsiasi circuito, anche nei telefoni, che amplificano e trasmettono un segnale. Mentre l'utilizzo di troppa controrreazione è dannosa ad un ascolto di alta qualità. Infatti introduce come minimo un piccolo ritardo, anche se piccolissimo ritardo, perché il segnale deve ritornare indietro per poi ripercorrere la stessa strada. Ed inoltre questo segnale comunque deve effettuare un percorso più complicato della strada bella dritta che si avrebbe senza controrreazione. Senza controrreazione non si può fare perché il transito non sarebbe per niente controllato e potrebbe partire e mettersi ad autoscillare. Quindi un po' di controrreazione ci vuole per forza, e ce l'hanno anche gli amplificatori che dicono di non averla, troppa controrreazione è una cosa dannosa, o anche molto dannosa, fa suonare molto male gli amplificatori. Altrimenti utilizzando la controrreazione che va a correggere i difetti dell'amplificatore potremo tutti comprare un amplificatore scadentissimo. Usare tanta controrreazione che va a correggere una volta, due volte, tre volte e alla fine avremo un suono perfetto. Purtroppo non è così. Quindi ancora una volta un po' di controrreazione sì, troppa no. Anche perché la controrreazione va a migliorare un altro parametro molto importante dell'audio, lo slew rate, cioè il tempo di salita, il tempo di attacco di un amplificatore. Vediamogli spiegare semplicemente di cosa si tratta. Un amplificatore può essere chiamato ad amplificare immediatamente un suono che quindi passa da 0 a 100 immediatamente in origine. L'amplificatore, se ha un alto slew rate, un'altra velocità di risposta, amplificherà questo suono da 0 a 100 nella maniera più veloce possibile. E questa velocità è appunto lo slew rate, il tempo di salita di un amplificatore. Migliore sarà il tempo di salita dell'amplificatore, lo slew rate appunto, migliore sarà la risposta ai transienti, anzi magari tra un attimo parliamo di transienti. E come si fa a migliorare il tempo di salita di un amplificatore? Beh ad esempio adottando un po' di controrreazione che fa capire all'amplificatore guarda che stai reagendo troppo lentamente a quel segnale in inglese, aumenta la tua velocità. Quindi può essere lo slew rate, la risposta ai transienti, può essere migliorata anche con un goccio di controrreazione. Attenzione a non confondere lo slew rate con la dinamica. Nonostante le slew rate dinamica siano strettamente legati fra di loro, la dinamica ha la capacità di passare da uno stato di guieta a uno stato di massima potenza che l'amplificatore deve avere, ma non ci dice quanto velocemente deve passare da 0 a 100 se ci mette come una 500 12 secondi o se ci mette 2,4 secondi come una Lamborghini XYZ. Lo slew rate invece parla appunto della velocità di risalita, la dinamica di quanto può risalire questo amplificatore. Abbiamo accennato ai transienti, i transienti sono quei suoni con un altro slew rate in natura. c'è quei suoni dall'attacco molto veloce, non per forza dall'attacco forte, c'è un colpo di tamburo, di timpano, è decisamente dinamico e potente, ma è lento nel salire, non è così veloce come l'esempio su questo ticchettivo che sentite adesso. Questi piccoli e veloci suoni sono transienti, segnali che hanno un'altissima velocità di attacco. Tipicamente nella musica lo sono i legnetti, le percussiocine brasiliane, le pennate della chitarra, non il suono della chitarra prolungato, la pennata, il colpo del plettro sulle corde, quelli sono i transienti di un suono di chitarra. E come bene avrete notato è un sintomo di un buon ascolto avere i transienti molto veloci, quello che spesso viene chiamato micro dinamica, dinamica centro relativamente, ma questa che viene chiamata spesso micro dinamica non è altro che la velocità di risposta del sistema, amplificatore casse, nel rispondere molto velocemente a una richiesta molto veloce che gli arriva dalla sorgente musicale ovviamente. Anzi vi dirò di più, spesso per far ascoltare un impianto e farlo piacere si usano dischi molto ricchi di piccoli transienti, voci femminili delicate, quindi pochi strumenti molto veloci danno subito quella piacevolezza d'ascolto e di realtà che fa tanto piacere un impianto quando viene sollecitato da questo tipo di musica di test. Da cosa è dovuta una buona risposta ai transienti di un amplificatore? Da tutto quello che abbiamo detto prima, quindi da un veloce slew rate, da una certa dose di contraddizione, da un fattore di smorzamento elevato, quindi tutta una serie di caratteristiche che fanno in modo che questo amplificatore abbia un buon suono. Queste sono solo alcune delle caratteristiche e dei numeri che noi possiamo trovare che ci aiuterebbero a capire se un amplificatore suona bene o suona male. Fermo le standard, poi c'è sempre quello che imbarba a qualsiasi numero dirà che questo amplificatore mi piace e quello no, ma il perché mi piace ha sempre dei motivi tecnici, non mistici, non metafisici, fisici. Ed ecco che abbiamo parlato appunto di tre esempi di caratteristiche tecniche che riguardano gli amplificatori che spero siano risultati interessanti ai miei follower, che tra l'altro ringrazio per essere sempre benevoli nei commenti e mai gradevole. Devo dire che fortunatamente non ho haters e spero che non inizia proprio oggi. A presto.